Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e bentornati nel Lucente Signore, il DLC dell'Ombra di Mordor. Oggi andiamo avanti con la cattura, la creazione delle torri della forgia, usando la missione Strumenti per l'Incarico. Per cui vediamo se anche queste modelle testate. Allora, Marchia 7 e Uruk stanno attaccando la tua famiglia. Torneranno alle sponde occidentali e noi resteremo qui. Sei il re delle menzogne. Pensi che sia così ingenuo da credere che sia un'attività dopo quello che hai fatto all'eregheo, verrai condannato all'aria. Molto, molto comodo dovrei avere questa modalità di cattura tramite... Tramite il... Il colpo di Lucente di Terra. Adesso marchiamo le 7 per di là. Possiamo fare anche così. Sì, molto, molto veloce. Tanto a me marchiamo così. Sì. Ah! Vai, catturiamo gli entrambi. No, io ho bisogno di proteggere questo. Beh, avrei preferito un Berserker, onestamente. Vai. Non è ancora un Berserker. Vai. Vai. Vai così. Ottimo. Portate entrambe le macchine da guerra. Allora. 60 minuti. Catturiamone un altro po' di gente, va. Andrè camera, maledetto. Perché mi si era bloccato il comando? Vai. È posseduto. Sì, ho bisogno di eliminare la... Allora sì che lo ammazzo. Vai così. Lui. E te. Deve andare dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte. Proteggete la macchina. Mi prodi. Dai. Evoca gente. Evoca gente. Salta. Orcomondo. No. No. Vai. Vai così. Catturane altri. Morto. Da, da, di là. C'è qualcuno che si nasconde. Dai così. 23 secondi. Vai così. L'altro lato, l'altro lato. L'acqua è fuggita. Ho visto qualcosa laggiù. No. Vai così. Mamma mia. Bene, adesso potete anche distruggerle tranquillamente. Non è più un problema. Andiamo direttamente da lui. Ascruttando la nostra abilità dell'anello. Siamo imbattibili. Perché con la scusa che ne abbiamo catturati assai. L'abbiamo ricaricato per bene. Vai così. Opla. Sì, proprio a te volevo. Così. No, no. Lui. Mamma mia. Dai. Ancora un colpo. Mi ha rischiato grosso sto giro. Fantastico. Tanto qua il lag è di casa. Ce l'ho pure in testa. Eh, l'anello lo sta prendendo. Molto, molto, molto faigo. Torre costruita. Ottimo. E mi ha sbloccato anche il capitano della suddetta torre. Della suddetta regione. Più che altro. Più che torre. La tua famiglia morirà. Conoscerai solo l'odio e la disperazione. E con essi l'oscurità. Conoscerò la vittoria. Conoscerò gloria e peggetta. Che tu diverrai mio schiavo. Ah, vuol dire che mi sta piacendo questo elfo molto badass. Per cui vi ringrazio tanto per aver visto il video. E ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Shadow of Mordor. Ciao ragazzi! 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 Grazie a tutti